Mi chiamo Favaro Giacomos, faccio il consulente per la ristorazione e le aziende alimentari. Le sfide che tutti i giorni incontriamo è quello di rendere le aziende più performanti possibile. Ho conosciuto Food Costing Cloud sulla ricerca online. Da questo evento mi porto a casa la consapevolezza di aver dato qualche nozione in più a un gruppo di ristoratori. Il valore aggiunto di un software come Food Costing Cloud è dato dal fatto che hai dei dati economici all'interno di un'unica schermata, diciamo così, di un'unica interfaccia. Consiglierei Food Costing Cloud a tutte quelle aziende medie e medio-grandi che vogliono entrare in un concetto di managerialità e in controllo della propria azienda.